Cari amici, in questi giorni abbiamo appreso dai telegiornali notizie su spaventosi incendi che hanno colpito la costa occidentale degli Stati Uniti, causando vittime e costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni, con impressionanti immagini dei cieli infuocati delle grandi città. Altri incendi in precedenza avevano distrutto milioni di ettari di foreste e foreste boschi nell'Australia sud orientale, anche qui con vittime, con distruzione di abitazioni e con la morte di milioni di animali e nel passato recente incendi paurosi per le dimensioni sono divampati ancora in California, in Siberia, in Amazzonia e in altre parti del mondo. Le cause sono spesso imputate all'azione dei fulmini a quella dolosa o colposa dell'uomo, con il decisivo contributo del cambiamento climatico che determina l'inalzamento delle temperature e conseguente siccità che si diffonde in vaste aree del globo. Oggi vi parlerò di un incendio definito grandissimo dagli scritti del tempo, un castigo che a memoria d'uomo non aveva avuto uguali nel passato e che nel febbraio del 1821 colpì una vasta area posta attorno al Monte Gotter. Durante le ricerche per la pubblicazione del libro Butto in Cammino, edito da Butto Cultura nel 2007 in occasione dei 350 anni di autonomia della parrocchia, troviamo un documento conservato nell'archivio parrocchiale che riferiva di un incendio alimentato da un forte vento che aveva distrutto la canonica che aveva costretto il parroco Don Giovanni Battista Pietronave ad una fuga precipitosa. Un altro documento che forniva ulteriori elementi sull'accaduto testualmente recita. Allora, memoria che la casa del parroco vicina alla cappella del Santissimo Rosario nell'anno 1821 al 8 di febbraio fu incendiata da uno fuoco portato da un fortissimo vento e tutta la mobiglia e biancheria del parroco e roba da mangiare è andata alle fiamme. Appena salvati alcuni libri e legnoli è fuggito il parroco appena vestito. Il sopradetto fuoco venne subito fatto giorno. Abbruciò anche la casa del reverendo Domenico De Nevi, del suo mezzadro, di Domenico Ghiorzi, di Pierantonio Viaggiotti ed Agostino Viaggiotti ed una terza parte da Castagni. Quindi non soltanto la casa del parroco fu distrutta dal fuoco ma anche altre abitazioni. Un altro punto poi trovato nell'archivio del vicariato di Tevigio precisava che nella canonica di Butto era andato tutto distrutto ma che fortunatamente si erano potuti salvare i registri parrocchiali. La canonica era situata nella località della Focetta che è una località storica del paese di Butto assieme all'Isorne consigliato e distante circa mezzo miglio dalla chiesa, nei pressi, nelle vicinanze del confine con la parrocchia di Groppo. Naturalmente il fatto ci colpì e cercammo altri elementi sulla accaduto. Contributo fondamentale è pervenuto da ricercatore volontario dell'archivio e biblioteca Nicolo V di Sarzana Giorgio Saporiti che in uno scritto pubblicato dalla rivista Chiesa Locale ha citato il disastroso episodio accaduto nel 1821 fornendo molte notizie sull'incendio che aveva devastato interi boschi alle pendici del Monte Gottero raggiungendo i territori dei paesi di Groppo, di Rio, Chiusola e Butto. Il parroco di Rio Pietro Ricci il 10 febbraio 1821 annotò il fatto nel registro dei battesimi della sua parrocchia sotto il titolo di memoria alla posterità. Il libro scritto sul Borgo e la parrocchia di Groppo di Sesta Godano pubblicato da Butto Cultura nel 2019 riporta la ricerca di Saporiti che pone in risalto la volontà dei parroci di tramandare le vicende disastrose accadute nel territorio delle rispettive parrocchie con annotazioni poste sui registri canonici e quindi destinati ad essere conservati nel tempo e perciò sicuri custodi di una futura memoria. Il tutto era iniziato il 2 febbraio 1821 quando nella selva del Monte Gottero comunaglia del comune di Godano il fuoco era sfuggito al controllo di alcuni pastori che l'avevano acceso per difendersi dal freddo dell'inverno. Nei giorni successivi e sino al 7 febbraio il fuoco e quegli effetti erano stati probabilmente sottovalutati dagli abitanti in un primo momento e progressivamente si era allargato fino ai territori appunto dei paesi di Rio, Groppo e Chiusola. Poi verso la mezzanotte del 7 febbraio si era improvvisamente alzato un vento furioso indicato dal parroco di direzione Austro-Levante di una intensità mai vista che il giorno successivo aveva fatto correre il fuoco nelle valli con gli alberi per la massima parte castagni accesi ad un tratto come candele e con tizioni ardenti portati da un vento impetuoso che avevano propagato le fiamme a più miglia di cammino e con velocità inaudita. Il sole 24 ore tra l'8 e il 9 febbraio il fuoco percorse più di 30 miglia e causò la distruzione dei boschi di castagno di faggio. Un calcolo che fece la mensa parrocchiale di Rio sui danni che aveva ricevuto il solo parroco calcolò in 800 le piante di castagno bruciate o sradicate. Si è scritto che il sole fu oscurato dal fumo che raggiunse la costa e a Levanto si raccolsero strame e fogliami mezzo consunti dal fuoco. Il parroco scrisse ancora che gli abitanti dei paesi coinvolti dall'incendio si divisero in due classi la classe dei robusti che si impegnarono sul fronte del fuoco e quella degli impotenti che invece alzavano lacrimose preghiere all'altissimo. Per fortuna verso la sera del 9 febbraio cessò il vento di terra e con esso il grandissimo incendio. Ancora sei anni dopo il parroco di Chiusola attestò i danni causati dall'incendio per l'economia proprio del paese con la distruzione dei castagnetti e riferì che si stava ancora consumando la legna avanzata dal fuoco e poi che ve ne sarebbe stata altra per il futuro perché gli alberi indeboliti si stavano abbattendo per il vento e per il ghiaccio. Gli abitanti di Chiusola fecero voto per il futuro di celebrare Santa Pollogna, Santa celebrata proprio il 9 febbraio. Da molto tempo festeggiavano anche Sant'Agata commemorata il 5 febbraio perché in quel giorno erano stati liberati da un precedente terribile incendio del quale però non si hanno altre informazioni. Tornando infine alla canonica di Buto posta vicino alla chiesetta dedicata alla Madonna del Rosario e distrutta dall'incendio proprio nella giornata di massima estensione del fuoco, cinque anni dopo il parroco scrisse che era stata ricostruita con il contributo di tutto il popolo. Termino con una considerazione sull'importanza della memoria e delle tradizioni riportate oralmente. L'amico e studioso Giacomo Greppi ci ha ricordato che l'ultracentenaria Ana De Lucchi nativa di Airola di Sesta Godano raccontava il ricordo del disastroso incendio che aveva anticamente interessato il Monte Gottero. L'incendio alimentato da un vento mai visto prima che faceva raccontava lei volare i rami infuocati da un costello all'altro. Anna era nata nel 1913 e aveva sentito raccontare l'evento con toni apocalittici dai suoi vecchi che a loro volta l'avevano raccolto dalle persone che ne avevano preceduti e così per le generazioni che si erano succedute dal 1821. Anna raccontava che era stato l'intervento soprannaturale della Madonna della Fontana, protettrice di Airola alla quale è dedicato al santuario costruito per ricordare il miracolo di cui fu beneficiata Caterina Greppi, fu dicevo appunto la Madonna della Fontana a risparmiare dal fuoco le case del paese. Un caro saluto e arrivederci alla prossima storia. Grazie a tutti.